Iniziare subito con il professor Lopalco perché ci sono molte domande per lui nella doppia veste di ruolo politico, amministrativo e naturalmente di medico, di studioso perché siamo un po' nelle ore decisive, ancora una volta si è trascinato per tutto il weekend uno scontro fra governo e regioni ancora non sanato, non risolto in vista del nuovo DPCM perché fra poco ci sarà una riunione ancora politica di capi delegazione della maggioranza con Conte ma poi un incontro con i presidenti delle regioni, sono sempre videoconferenze e poi alle 12 Conte parlerà alla Camera, alle 17 parlerà al Senato, questa sera o domani al più tardi potrebbe esserci il nuovo DPCM il tutto in un clima con l'opposizione non proprio fantastico, nonostante un monito di Mattarella però professor Lopalco vengo da lei perché le chiedo se alla fine l'orizzonte, questa partita è solo chi deve decidere di chiudere ma sarà inevitabile poi un lockdown pesante come a marzo o no? Allora sicuramente la decisione non solo su chi deve decidere ma anche su quando decidere di aumentare le restrizioni è una decisione sofferta nessuno prenderebbe mai una decisione così pesante a cuor leggero, quindi è ovvio che ci sia dibattito, è ovvio che ci sia discussione e guardi le assicuro che molto spesso la discussione soprattutto fra le regioni e il governo è una discussione molto costruttiva cioè nel senso che si arriva poi davvero magari ad un punto di sintesi che è il migliore per tutti purtroppo non c'è una ricetta giusta, non c'è una ricetta sicura bisogna fare quello che a tutti compresi il mondo scientifico sembra importante fare ma sicuramente dobbiamo fare qualcosa perché la curva dei casi è in crescita e non possiamo lasciarla crescere in maniera indisturbata dunque è il momento sicuramente ora di decidere, non è facile decidere ora anche perché qualunque misura si prenda sarà una misura impopolare ed è chiaro che quindi nessun politico vara una misura impopolare a cuor leggero ma bisogna farlo e bisogna soprattutto comunicarlo bene ai cittadini bisogna spiegare perché si sta facendo questo, si sta facendo quello il tema è questo, bisogna limitare i contatti sociali cioè bisogna fare in modo, cioè prendere delle decisioni che facciano in modo che la gente si incontri il meno possibile cioè che gli scambi fra le famiglie siano limitati al minimo indispensabili se lei mi chiede se sarà un lockdown come marzo io rispondo no cioè a marzo noi oggettivamente anche come paese abbiamo preso delle decisioni e abbiamo compiuto delle azioni che guardate, viste oggi possono anche sembrare un po' eccessive io ricordo i droni che inseguivano la gente per strada oppure il runner da solo in riva al mare che è stato inseguito dai poliziotti ecco, quel tipo di lockdown in questo momento non ha senso poteva avere senso a marzo quando non avevamo le mascherine quando gli ospedali erano sul collasso, quando non ci eravamo preparati ora siamo molto più preparati, decisamente molto più preparati rispetto a marzo quindi qualunque tipo di misura di limitazione degli incontri, dei movimenti personali può essere sicuramente più soft grazie